Troviamo adesso in Via Puglia, qual è il problema specifico che riguarda questa strada? Il problema di Via Puglia sono gli alberi di pino che sono stati all'epoca piantati lungo il muro di cinta e che adesso crescendo negli anni hanno assunto delle forme in diagonale e provocano pericolo per gli abitanti di Via Puglia stessa. Ad ogni maltempo quando le raffiche di vento aumentano è un terrore che hanno gli abitanti di Via Puglia perché vedono oscillare questi alberi di pino abbastanza alti e conformi appunto in diagonale verso Via Puglia.